Nunzia Melaccio, equity partner di Gentili & Partners Milano. Prova, prova, prova. Uno, due, tre. Viva le donne! La Brexit sconvolge gli intermediari che lavorano in UK o che da UK lavorano in Europa e quindi apre l'incertezza di quello che accadrà. Sappiamo che ci sono due scenari, soft e hard Brexit. Quello che ci interessa di più è che oggi sicuramente l'esito politico di questa negoziazione avrà un impatto sugli operatori finanziari, quindi bisogna seguirlo in maniera costante e sapere anche quali potrebbero essere le aree di maggiore impatto. Do solo uno spunto. Sicuramente per coloro che prestano servizi di investimento la Brexit è dirompente, perché con la Brexit la UK diventa un paese terzo, quindi qualcuno che dovrà avere accordi di cooperazione, collaborazione forti per poter lavorare in Europa. Se questo non dovesse esserci il 29 marzo alle 23, sicuramente questi operatori hanno di fronte a loro un issue importante, un problema importante da risolvere. Le autorità di vigilanza di fronte al tema Brexit sanno benissimo di dover dare una risposta agli operatori. È importante vedere quali risposte si sta preparando a dare l'autorità di vigilanza inglese, quindi la FCA. L'FCA oggi ci dice sul proprio sito, quindi pubblicamente, che se ci sarà un hard Brexit è già disposta a dare un riconoscimento temporaneo per continuare ad operare in UK a tutti quegli operatori europei che sono già lì presenti. Quindi ha già dichiarato massima collaborazione, dando degli slot entro i quali poi questi operatori, se decidono di rimanere in UK, dovranno ovviamente avviare le procedure per essere autorizzati in UK. Ci dice anche l'FCA, se ci sarà soft Brexit, allora ci sarà un grace period e quindi ci sarà una reciprocità sicuramente nell'andare a scrivere quegli accordi di collaborazione tra due parti che oggi sono in un'unione e per cui facilmente potranno continuare a collaborare in futuro. Quindi le autorità oggi giocano un ruolo essenziale nel far comprendere all'unione e anche al governo inglese perché è importante che trovino un accordo. La Brexit apre scenari di incertezza, ci sono tante aree geografiche pronte ad accogliere questa incertezza ripagando invece con un sistema di strutture, di regolamentazione instabile che possono essere molto attrattive per questi operatori che appunto vivono questa necessità di trovare un'alternativa. Il Lussemburgo tra tutti sta facendo il ruolo del leone perché sicuramente è un paese che ha sempre avuto una forte dedizione verso il mondo finanziario che ha sempre valorizzato come componente essenziale del suo PIL stabilità politica, stabilità economica e stabilità delle leggi. Quindi sicuramente si propone come paese di destinazione importante in questa fase. E non è un caso che l'Associazione per il risparmio gestito inglese proprio con il finanziamento di Luxemburg for Finance abbia recentemente, quindi a chiusura del 2018 fatto un video in cui racconta i grandi vantaggi del Lussemburgo. Il Lussemburgo non è da solo, ci sono Francia, Germania, purtroppo non l'Italia che stanno beneficiando di questa possibile fuoriuscita della UK ormai certa fuoriuscita della UK dall'Europa, l'Italia no perché non ha fatto un tempo, non ha avuto modo di concentrarsi su quelle riforme che erano utili ad attirare non solo gli individui ma anche le società finanziarie che volevano riposizionarsi nel nostro paese e questo è veramente un peccato perché tantissime iniziative che sono presenti in UK vedono proprio gli italiani come relativi promotori. Grazie